Buonasera e benvenuti a questo incontro. Io sono Gianluca Foglia della casa editrice Feltrinelli e non vorrei essere qui. Penso di interpretare il sentimento di tutte le persone presenti e non vorremmo essere qui. O almeno non vorremmo essere qui a fare quello che ci accingiamo a fare. Un ricordo di Alessandro Leogrande che non è più con noi da qualche mese. Avrei voluto essere qui con le persone, con gli amici, con le tante persone conosciute che vedo davanti e con le persone che stanno di qua dalla scrivania a presentare insieme ad Alessandro il suo libro nuovo, il libro a cui aveva cominciato a lavorare. Proprio qui a Torino l'anno scorso ci siamo incontrati con la gente letteraria con cui aveva cominciato a lavorare, Carmen Prestia, per programmare, per progettare un nuovo libro. Doveva essere una ricerca sulle tracce di una storia che si dipanava dall'Argentina all'Italia. E quando Alessandro è mancato era da poco tornato dall'Argentina proprio per fare un viaggio di ricerca, di esplorazione sulle tracce di questa storia. e chiamava, ci stava lavorando con la solita passione e spiegava come voleva raccontare questa storia, lo stile, diceva voglio fare un passo avanti verso un'esposizione più narrativa, voglio metterci qualche elemento di finzione in più, voglio rileggere Bolagno perché lo vorrei riscrivere un po', vorrei ispirarmi, insomma era partito come partiva Alessandro quando lavorava un nuovo progetto. Vorrei essere qui oggi con tutte le persone presenti a raccontare insieme a lui quel libro che purtroppo non pubblicheremo. io non amo il protagonismo editoriale eccetera, però diciamo che sono sostanzialmente qui per provare a dare una mano ai vari amici che ricorderanno Alessandro e per dire che mi manca. mi manca la sua serietà, la compostezza di modi, la tenacia, la sua visione e mi manca Alessandro come orizzonte e provo a spiegarmi, quando si lavora in una casa editrice si fanno tante cose, tanti libri, tante novità, si viene presi da un flusso di lavoro, di produzione, si fanno le cose buone, le cose meno buone, le cose giuste, le cose meno giuste, ma ogni tanto ci si ferma, credo che ci si dovrebbe fermare, a me capitava di fermarmi e dire ma la casa editrice fra cinque anni, fra dieci anni, come te la immagini, chi ti immagini? e Alessandro c'era sempre come figura intellettuale e morale di riferimento che sono quelle figure, poche, che danno senso, che danno il senso di una missione, di un compito, del senso di un lavoro e niente, tutto questo ci manca e proveremo a dirci o a ridirci perché signora Maria, il fratello, la sorella di Alessandro sono qui con noi questa sera e sono qui con noi una serie di amici che sono stati vicini a vario titolo ad Alessandro e l'hanno seguito nelle varie fasi della sua vita, della sua attività di intellettuale. Goffredo Fofi, in primis, Nadia Terranova, Giuseppe Catozzella e tra qualche minuto dovrebbe raggiungerci anche Roberto Saviano. Oltre a Salvatore Romeo che ci ha aiutato a raccogliere gli scritti che formano parte del libro che abbiamo pubblicato l'altro ieri per ricordare, per dare un segno, per provare a fare quello che continueremo a fare, cioè tenere fermo questo lavoro come un punto di riferimento importante, il lavoro di Alessandro, le opere di Alessandro come un punto di riferimento importante di ciò che è stato pensato, prodotto, conosciuto, scoperto in Italia da parte di uno degli elementi più brillanti della sua generazione. E poi c'è Nicola, dove è? Eccolo. Nicola Laggioia, direttore del Salone del Libro, che ringraziamo per aver ospitato questo incontro, che di Alessandro era amico, insomma, di lunghissima data e che, insomma, introduce questo incontro con un suo ricordo. Grazie, Nicola. Io posso dire solo veramente poche parole. Qualunque cosa di buono mi possa accadere o ci possa accadere quest'anno, questo non sarà mai un anno bello, per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, perché proprio l'assenza di Alessandro, io, noi, penso di poter parlare per tutti quanti noi, ce la siamo sentita addosso, veramente giorno dopo giorno. Ora il problema non è scrollarsela di dosso, ovviamente, il problema è riuscire a trasformarla in qualcosa di buono. Io, sì, sono un amico di Alessandro di lunga data, non di lunghissima data, l'ho conosciuto nella migliore scuola che io abbia mai frequentato in vita mia, che è quella dello straniero di Goffredo Fofi. E niente, poi come succede nelle grandi scuole che frequenti, poi si diventa amici anche, oltre che lavorare insieme. Tant'è vero che pochi mesi dopo aver conosciuto Alessandro, grazie a Goffredo, noi poi appunto eravamo un po' i pugliesi della diaspora, cioè tutti i pugliesi che poi si rincontrano in giro per l'Italia, per il mondo, e ci siamo ritrovati a Castella Netamarina. Ci siamo ritrovati a Castella Netamarina e era abbastanza, quel posto lì, quell'estate lì, emblematica, perché sulla spiaggia di Castella Netamarina, e finisco con questa immagine, che è un'immagine, come dire, bella e al tempo stesso allarmante, c'era questa spiaggia stupenda, questo cielo bello, e sullo sfondo c'era l'ilva. E questo, secondo me, dice tante cose. La cosa che vi posso dire è veramente, chi non l'ha letto, di leggere i libri di Alessandro, di leggere i reportage, di imparare a fare le cose leggendo, perché tanto, ecco, la lezione più brutta del fatto di, per quanto è più anziano di me, come dire, più abituato, ma di perdere un amico a quell'età così giovane, è che è proprio la sovversione di una cosa, di un pezzo bellissimo dei Miserabili di Victor Hugo, in cui si dice una cosa che invece, secondo me, è sbagliata, in quel libro stupendo, immortale, però è figlio, in qualche modo, dello storicismo, cioè è figlio del fatto che la storia c'ha uno spirito che deve andare in qualche modo a conseguire qualunque cosa accada. Non è vero che se una cosa, come dire, non la fa una persona, poi la fa un'altra, perché la storia va verso il meglio. Quando non c'è più una persona che era l'unica che poteva fare quella roba lì, quella cosa lì non la posso fare io, non la puoi fare tu, non la puoi fare un altro. Questa è la lezione terribile, però questa è anche una cosa buona, cioè nel senso, questo è anche una, come dire, un'investitura di responsabilità personale, cioè se tu non fai qualcosa di buono, di decente nella tua vita, nessun altro lo farà al tuo posto. E l'unica cosa che possiamo fare è provare a raccogliere l'esempio, non del talento, perché il talento, come dire, uno ce l'ha o non ce l'ha, ce l'ha tanto, ce l'ha poco, però del metodo e dell'approccio. Questa è la cosa, e il metodo dell'approccio si possono imparare, perché dipendono dalla volontà, dipendono dall'educazione, dipendono dall'autoeducazione, dipendono dalle persone che decidi di frequentare, dipendono dalle strade che vuoi prendere un'una anziché l'altra. Questa cosa qui si può imparare a fare, invece, a differenza, ripeto, del talento. E io spero che noi, appunto, come dire, io me lo auguro innanzitutto in prima persona, che spero di non scrollarmi mai questo dolore di dosso, però spero di, come dire, nel mio piccolo, di trasformarlo in qualche cosa di buono. E niente, io vi... Grazie, Nicola. Prego. Grazie. È arrivato Roberto, Roberto Saviano. Ciao, Roberto. Cominciamo, credo, vedendo un filmato breve di qualche minuto che è stato dedicato ad Alessandro Leogrande dal liceo Archita di Taranto. Giusto? Grazie. Grazie. C'è un problema tecnico, lo vediamo dopo? Ok. No. Manca l'audio. Lo rivediamo. Direi che lo interrompiamo, lo vediamo dopo, ok? Goffredo. Dove sei andato? Fuori dai Tarantini, credo di essere stato uno dei primi a conoscere Alessandro. E' stato un incontro molto particolare perché io avevo scritto una quarta di copertina per un libro sul sud, ci si ricominciava a interessare al sud di Giancarlo De Cataldo che ancora non era famoso come scrittore, era un giudice tarantino ma trasferito a Roma e aveva fatto questo piccolo libro per l'edizione in teoria molto bello sul sud, sulla particolarità di abitare in una città lontana da Roma come poteva essere Taranto con i problemi come dire da un lato di orgoglio di venire da quei luoghi e nello stesso tempo di come dire di difficoltà a inserirsi in un contesto nuovo come per lui era quello romano, capire un po' l'Italia, sentirsi italiano, diciamo. Io avevo chiesto a Giancarlo di trovarmi dei giovani tarantini che potessero scrivere sulla rivista che facevamo allora che si chiamava La terra vista dalla luna che aveva una sezione affidata totalmente a dei giovani in genere sui vent'anni o sotto i vent'anni che si chiamava Sole di vento Sole di vento è una frase di un verso di Rimbaud è un'idea di gioventù la gioventù che corre che ha le gambe come Mercurio nella mitologia nella mitologia greca ma di Rimbaud un'altra frase che noi dicevamo spesso e con Alessandro la si è spesso commentata era una frase che è molto bella ritirata fuori di recente da Giuseppe Montesano il poète absolument moderne bisogna essere assolutamente moderni che non vuol dire essere alla moda vuol dire essere presenti al proprio tempo non vivere oggi negli anni 50 o negli anni 80 insomma essere dentro la storia il mondo cambia anche noi in qualche modo dobbiamo tenere il passo essere contemporanei di questo di questo di questo tempo e questo per noi era facendo la rivista dello Straniero era una cosa quasi una come dire era un un elemento fondamentale di un credo facevamo un mensile bisognava ogni mese raccontare ragionare su quello che succedeva di importante su quello che c'era sotterraneamente nelle cose evidenti ma anche su quello che era semplicemente molto evidenti con Alessandro lo conobbi nella sede della cgl di di Taranto era non aveva ancora finito il liceo venne spessissimo alle riunioni che facevamo quando ancora abitava Taranto a Napoli a quel tempo e molti di noi lo ricordano con un maglioncino rosso sgargiante che era la cosa che gli piaceva di più non mi ricordo se era un maglione o una camicia ma era esile magro e con questo rosso che arrivava all'improvviso nella stanza e che ci è come dire che ci dava una luce diventava un riferimento importante quando muore una persona molto più giovane di noi ci si sente sempre in colpa perché non è giusto che muoiano dei giovani al posto nostro i greci antichi dicevano cari agli dei se uno more giovane perché gli dei lo vogliono con loro lo vogliono portare nel loro nel loro nel loro mondo di cari agli dei purtroppo noi ne abbiamo avuti parecchi nella nostra storia Alex Langer di cui Alessandro era quasi fanaticamente lettore e cultore perché era un esempio di un modo di fare politica ma anche di un modo di ragionare e anche di un modo di essere presenti nella storia anche nei momenti più difficili per esempio quelli della guerra nell'ex Jugoslavia e che che per Alessandro voleva dire anche un modo di ragionare su quella storia ragionare sui Balcani due delle cose che appassionavano di più Alessandro era quello che succedeva nei Balcani e quello che succedeva in genere nel Mediterraneo erano due suoi cavalli di battaglia ne sapeva molto di più di tutti noi e in qualche modo per esempio per lo straniero era fondamentale questa sua conoscenza perché trovava collaboratori lui io potevo trovare in altri campi ma non non in quello e perché riuscivamo a seguire con una certa intelligenza quello che succedeva comprese le migrazioni che dal Mediterraneo e dal Medio Oriente arrivavano arrivavano fino a noi un altro personaggio a noi caro era Luca Rastello torinese morto anche lui molto precocemente di cancro e anche lui legato alla storia dell'ex Yugoslavia un altro ancora era Mauro Rostagno di recente sono stato a Cinisi a commemorare Peppino Impastato e mi ha commosso sapere che Peppino era stato molto amico di Mauro quando Mauro era sceso a sud lo sapevo vagamente lì mi hanno raccontato come c'era questo legame poi ovviamente ci sono molti altri nomi di cui si potrebbe parlare però ecco questa è un'enorme ingiustizia è un'ingiustizia che io sia vivo e Alessandro sia morto non è vero quello che dice da qualche parte Canetti che quando muore qualcuno e il sopravvissuto dice beh io me la sono scampata non è vero ci sono momenti in cui invece si dice perché lui sia io no perché perché io quello che avevo da dare in parte l'ho dato in buona parte lui aveva da dare tantissimo e questo tantissimo era un qualcosa di utile oltre il piccolo campo della rivista e oltre anche il piccolo campo direi perfino dell'Italia perché poi una cosa positiva di Alessandro che aveva delle idee molto chiare su quello che era possibile fare scrivere dire studiare e che questo doveva avere un vasto raggio i Balcani il Mediterraneo ma per esempio anche l'Argentina e per esempio negli ultimi anni per fortuna veniva chiamato da qualche istituto culturale italiano all'estero a presentare i suoi libri e ne tornava sempre con delle conoscenze nuove dei collaboratori nuovi faceva delle interviste agli scrittori giusti ai personaggi giusti della politica era totalmente dentro questo tempo però nello stesso modo in cui si sentiva perfettamente radicato in una storia che per me è stata molto importante e per lui è stata molto importante quella del sud quella diciamo del meridionalismo una delle cose che gli piacevano di più credo di me era il fatto che avessi conosciuto Salvemi che fossi stato amico di Tommaso Fiore di Vittore Fiore che fossi stato che avessi conosciuto molto bene Carlo Levi che avessi lavorato con Danilo Dolci insomma legato a una storia del sud una storia attiva quella del dopoguerra che ovviamente lui non aveva potuto vivere e persone che non aveva potuto conoscere per per motivi biografici una volta andammo insieme a trovare Rocco Mazzarone un grande medico medici uno di quelli che ha introdotto la medicina sociale in Italia dopo la guerra che era uno dei quattro pazzi della Lucania del dopoguerra Amalio Rossidoria Rocco Scotellaro Carlo Levi e Rocco Mazzarone lui era l'unico sopravvissuto e fu veramente entusiasmante stare a pranzo con Rocco e sua moglie e sentire vedere la curiosità di Alessandro nei confronti della storia del sud delle lotte del sud delle teorie sul sud che c'erano state che c'erano state in passato in quello stesso giorno andammo poi ad Agliano sulla tomba di Carlo Levi sembrano sciocchezze prima eravamo stati Mazzarone stava a Tricarico eravamo andati sulla tomba di Scotellaro poi da lì siamo passati a Agliano sulla tomba di Carlo Levi era come come dire per lui era come un'investitura in qualche modo sentirsi partecipe di questa storia e continuatore di questa storia si sentiva un meridionalista però con uno sguardo molto ampio molto più aperto anche sul piano culturale perché non aveva una sì aveva studiato filosofia sapeva di sociologia ma era come se non avesse una specialità specifica era curioso di tutto e dopo poco che si occupava di qualcosa questa cosa l'acquisiva in un modo secondo me mirabile abbastanza incredibile la sua curiosità come dire per i padri arrivò fino a Pasolini ovviamente anche lì il mito di Pasolini era molto forte io portai lui e Ornella da Laura Betti e come dire fecero immediatamente un'enorme amicizia insomma si piacquero Laura era un personaggio anche difficile ma restò subito entusiasta di questi due ragazzini un altro personaggio da cui lui era affascinato era ovviamente Carmelo Bene non l'ha conosciuto però ha conosciuto Luisa Viglietti la sua compagna insomma c'è stato anche lì è partecipato ai convegni che organizzavamo nel sud le commemorazioni eccetera si sentiva parte di una storia che era una storia culturale una storia sociale e anche una storia politica direttamente politica quello che affascinava me e affascinava Luigi Manconi qui presente era questa sua attenzione per la politica questo suo essere come si dice volgarmente un animale politico però certo lui la politica la capiva la seguiva e aveva un approccio alla storia contemporanea italiana attraverso i mutamenti dei gruppi dirigenti i mutamenti economici eccetera che per me era sbalorditiva perché solo in lui ho trovato questa attenzione e questa competenza per questo dico per lo straniero era fondamentale l'apporto che lui dava perché era no io ero più bravo per certe cose ma lui per altre cose ne sapeva più di me e aveva come dire un fiuto un intuito e nello stesso tempo una fortissima carica morale la politica era la polis era l'interesse della gestione della città era l'attenzione per quelli che all'interno della polis soffrono di più sì certo vediamo cosa decide l'economia cosa fanno i padroni cosa fanno i partiti però vediamolo dal punto di vista di chi sta sotto di chi subisce non di chi decide pronto naturalmente ad assumersi delle responsabilità anche nelle decisioni gli interessava moltissimo il lavoro del sindacato era tra di noi forse quello che ha seguito di più le vicende del sindacato in anni molto difficili in cui il sindacato andava un po' a remengo e anche questo era un segno di un'attenzione alla polis perché la politica è una cosa importantissima lui credeva che fosse dovere di noi tutti occuparsi della città della gestione della città forse la cosa che gli interessava di meno e mentre nello straniero o nelle altre riviste era a volte non dico preponderante ma quasi era la pedagogia chiamiamola così cioè l'interesse per la formazione delle nuove generazioni lui insomma trattava meglio con i coetanei e con gli adulti che non con i bambini non aveva una particolare attenzione per la scuola per questi problemi però era dentro un meccanismo in cui c'erano altri che si occupavano di queste cose e c'era uno scambio continuo anche su questo credo che l'altro aspetto forte del suo lavoro sia stato proprio quello del sud la politica e la scrittura l'inchiesta il lavoro in senso più tradizionalmente culturale e qui lui è stato credo uno dei pochi in Italia dei pochissimi a dare come dire ad avere una pulizia nell'affrontare con le sue inchieste la realtà e nel raccontare la realtà ma anche una insistenza una pervicacia una capacità di andare a fondo di seguire le varie piste di ricostruire un contesto attraverso interviste incontri quello che a me mi stupiva sempre che ammiravo moltissimo e lui io sono un po' isterico spesso era la sua calma come Alessandro riusciva di fronte a dei come si può dire dei nemici di classe nella nostra ottica riusciva a dire quello che c'era da dire con estrema chiarezza e freddezza senza nessun tipo di aggressività nei confronti della persona che aveva di fronte anche se questa persona aveva idee politicamente opposte alle sue diverse totalmente diverse alle sue senza cedere di un passo senza nessun atteggiamento di compromesso e lui riusciva a farsi rispettare anche dai nemici più nemici perché come dire il suo modo di porsi il suo metodo di lavoro era una limpidezza ripeto rarissima nel mondo della politica nel mondo della scrittura probabilmente io su questo sono convinto che Alessandro stava diventando un grande scrittore ma forse non lo era ancora non aveva ancora trovato la chiave di racconto forse con l'ultimo libro e con alcune parti dei vari libri per esempio quel finale bellissimo che Manconi cita sempre sulla visita alla chiesa di San Luigi dei Francesi e di fronte al quadro di Caravaggio del martirio di San Matteo sulle sue riflessioni sul volto di Caravaggio che ritrae se stesso in quel quadro angosciato e spaventato da cosa? Dal fatto di guardare un crimine assistere un crimine un'ingiustizia senza poter intervenire sentendosi come dire depauperato sentendosi proprio deprivato della possibilità di intervenire che è qualcosa che riguarda noi tutti molto spesso di fronte alle tragedie che succedono nel mondo siamo tutti un po' spettatori angosciati ma che non abbiamo la capacità o la possibilità di reagire ecco queste sono secondo me le cose su cui lui lavorava c'era una era un personaggio molto autonomo e nello stesso tempo era un grande mediatore rispetto a me sicuramente perché io litigo facilmente con gli editori litigo con lui era preciso limpido però come dire sapeva dialogare aveva un metodo di lavoro un metodo di intervento politico nella realtà che secondo me è unico io non ho conosciuto altre persone come lui ho conosciuto molti ruffiani ho conosciuto molti intelligenti come dire mediatori però un po' opportunistici ho conosciuto molte persone di parte ecco molto di parte che lo si intuiva immediatamente che erano di parte anche se magari la parte erano solo loro una unica persona no lui questo non lo aveva lui era sempre presente a un a un'idea della responsabilità individuale culturale politica sua nel contesto in cui viveva credo che queste qualità siano rarissime non non potrei fare oggi altri nomi come come quello di come quello di di Alessandro credo che per questo ci mancherà e ci continuerà a mancare enormemente ci sono stati momenti nel lavoro della rivista in cui abbiamo avuto anche degli scontri c'è stata una fase in cui lui come dire sentiva il peso del far parte troppo della rivista voleva aprire le finestre girare di più vedere di più e su quello ci siamo non abbiamo litigato però intuendo questa sua frenesia questo suo bisogno io gli ho detto guarda fai quello che vuoi tieni solo conto di questo che un gruppo come quello intorno allo Streniero difficilmente lo troverai e lui su questa cosa si convince si convince del fatto che era il meglio che potesse trovare dove trovarsi insieme a delle altre persone a degli amici il suo contributo a tutti i seminari che abbiamo fatto in cui c'erano sempre una trentina di persone di varia origine a volte di più beh il suo contributo era sempre quello di una lucidità straordinaria riusciva a quando quando io ero in difficoltà gli dicevo per favore Alessandro chiudi te i lavori chiudi te la discussione e lui no tirava le fila in modo ripeto in modo veramente ammirevole non so cos'altro dire l'unica cosa è che certamente ci manca enormemente a me mi manca enormemente mi sveglio la mattina certe volte dicendo di questa cosa bisogna che parlo con Alessandro che chiedo ad Alessandro chi potrebbe parlare di questo argomento perché sulla rivista sarebbe necessario era a suo modo anche qui chiudo un rivoluzionario era una persona che credeva fortemente nella necessità di cambiare le cose il suo ultimo lavoro pubblicato è il saggio sulla rivoluzione di Carlo Pisacane che corredato da una sua lettura storica teorica esemplare veramente esemplare era l'idea che bisogna essere presenti al proprio tempo ma per cambiare anche questo tempo in funzione del presente in funzione e in funzione del futuro c'era sempre qualcosa di utopico fortemente utopico nella sua spinta l'incontentabilità di Alessandro rispetto al presente lo spingeva a ipotizzare a lavorare e a cercare quelle cose che dice Calvino che inferno non sono nell'inferno che abbiamo di fronte ma anche quelle cose che erano dei semi di futuro grazie Goffredo ecco Salvatore Romeo questi scritti su Taranto che abbiamo raccolto sotto il titolo dalle macerie cronache sul fronte meridionale sono stupefacenti ed è stupefacente leggerli nella loro dinamica cronologica nella loro successione perché non sono solo pezzi sulla storia di una città sulle vicende di una città e non sono solo nemmeno pezzi e storie sul sud sono un pezzo di storia d'Italia e questo è del tutto evidente se uno lo legge ci dai una battuta su come sulla visione che viene fuori da questo e sul lavoro che è stato fatto per raccoglierli in un volume sì io direi anzitutto ci tengo a ringraziare la famiglia Leo Grande che mi ha dato questa grande responsabilità di raccogliere gli scritti di Alessandro su Taranto a pochi mesi dalla sua morte e quello che emerge è proprio quello che tu rilevavi cioè una visione per quanto si tratti di scritti giornalistici e quindi di scritti frammentari però sotto c'è una visione che riesce a ricomporre questa frammentarietà e quindi a restituire un senso complessivo e facciamo attenzione che non è un'operazione facile da fare su una città come Taranto che ha vissuto negli ultimi vent'anni dei cataclismi perché è una città che ha avuto due fasi di industrializzazione dalla fine dell'Ottocento l'ultimo di grandissima portata che ha stravolto il territorio ha stravolto la società locale è una città che all'improvviso quando questa fase di sviluppo si è arenata a partire dagli anni Ottanta grossomodo ha vissuto il contraccolpo contraccolpo durissimo in termini non soltanto socio-economici di disoccupazione di povertà e così via ma anche in termini di tenuta dell'intera comunità perché dobbiamo immaginare questa comunità come una comunità composta essenzialmente di immigrati di immigrati tenuti insieme da una tensione che era quella dello sviluppo ed era quella della promozione sociale e quindi del benessere che a un certo punto si interrompe si interrompe lasciando in evasi alcuni bisogni fondamentali bisogni sociali e così via e quindi si crea questa situazione di stallo che dura e anzi si aggrava sempre di più anche nei nostri giorni e Alessandro riesce a leggere questo processo che sta attraversando la città e che attenzione non è una cosa che riguarda solo Taranto contestualizziamo un attimo il primo articolo che noi abbiamo raccolto in questo libro è del 1996 e risale esattamente all'esperienza che ricordava prima Fofi cioè la terra vista dalla luna ed è una corrispondenza Alessandro non aveva neanche 20 anni Alessandro era del 77 e quindi qui si coglie anche la straordinaria precocità fra l'altro che è un elemento che veramente ha dell'incredibile in questo articolo Alessandro Leogrande parla di un fenomeno di cui forse i più anziani di voi o almeno quelli dalla mia generazione in avanti si ricorderanno il fenomeno Cito questo ex picchiatore fascista editore di una televisione locale che utilizzava come strumento di attacco contro i suoi nemici politici che diventa sindaco della terza città più grande del meridione continentale quindi una cosa quasi incredibile in quella fase perché quella è la fase in cui invece in buona parte in altre grandi città del sud da Napoli a Palermo c'è la stagione dei sindaci c'è la stagione delle primavere c'è una stagione in cui sembra che dal sud ci sia un movimento progressivo a Taranto sta succedendo invece qualcosa di strano che alcuni leggono come un'anomalia appunto come una stranezza tutta localistica invece Leogrande si rende conto già dai suoi primissimi scritti che alla base di questa anomalia c'è un nesso strutturale che condizionerà la storia d'Italia non soltanto quella della storia della città di Taranto cioè il nesso fra la sconfitta del movimento operaio che nel caso di Taranto ha giocato il ruolo fondamentale ma il ruolo che ha giocato in tutto il paese e dall'altra la crisi della democrazia democrazia intesa non soltanto come apparato politico istituzionale ma intesa proprio come forme di mediazione forme di organizzazione che il movimento operaio si è dato per esprimere le sue stanze e conquistare i suoi e soddisfare i suoi bisogni questo nesso è alla base del populismo di quello che noi oggi siamo soliti chiamare populismo perché questo nesso vuol dire semplicemente oggi usiamo questo termine disintermediazione no? cioè fatti fuori i corpi sociali resta questo magma indistinto questa frammentazione enorme e su questa frammentazione si innestano fenomeni appunto populistici che giocano con le paure giocano con i bisogni delle persone per promuovere operazioni politiche a volte spesso spregiudicate ecco Alessandro coglie tutto questo quindi in controtendenza rispetto a quello che stava succedendo nel resto del sud però è evidente che la sua visione è una visione come dire lungimirante cioè che guarda alle trasformazioni che il paese sta attraversando e questo lo dimostra anche negli scritti successivi e negli scritti più recenti una buona parte di questo libro è dedicata ovviamente alla vicenda Ilva in cui Alessandro non è stato semplicemente un osservatore un analista ma è stato un militante Goffredo prima faceva riferimento alla sua passione al suo impegno politico in quel caso questo lo dico anche per esperienza personale Alessandro è stato molto vicino al movimento operaio sindacato i partiti della sinistra e così via ed è in quel momento in quel momento salta in quel momento questo fenomeno populista che certamente a Taranto assume delle caratteristiche particolarmente evidenti esplode in tutto il paese sono gli anni 2011 2012 2013 sono anni di trasformazioni drammatiche ecco quindi leggere Leogrande oggi vuol dire non semplicemente approcciarsi ad un grande intellettuale ad una delle voci più intelligenti e più lucide della sua generazione come è stato detto ma vuol dire anche avere una bussola sul presente vuol dire anche avere delle categorie delle lenti attraverso cui leggere il presente perché un grande intellettuale alla fine questo fa cioè ci fornisce delle prospettive a cui noi non siamo in grado di arrivare e quindi grazie a queste prospettive riusciamo a indagare a capire meglio anche la nostra vita di tutti i giorni grazie grazie salvatore Roberto un grande intellettuale questo fa e io penso che la frontiera le malevite siano come diceva Goffredo destinati a diventare dei classici della letteratura italiana perché avevano esplorato un modo di indagare la realtà e allo stesso tempo di raccontarla e in questo percorso Alessandro diciamo ha avuto qualcosa inevitabilmente in ricorda ai gentili visitatori che il salone chiuderà alle ore 20 va bene saremo rapidi Roberto in realtà il mio incontro con Alessandro è stato proprio su questo cioè dopo la pubblicazione delle malevite ci siamo incontrati sullo stile io credo che ad Alessandro per come l'ho conosciuto io non interessasse neanche essere definito giornalista scrittore saggista intellettuale condividevamo questa sorta di spazio selvaggio cioè dove contano più gli obiettivi della scrittura che la scrittura stessa la sua opera in questo senso è un'opera che corsara nel senso che se serve essere più narrativi si sceglie il mezzo della narrativa se serve invece essere puntuali e battere il martello dei dati lo faceva e in questo senso quando ci si è incontrati erano anni in cui io ero all'inizio e lui mi aveva inserito in una antologia prima che pubblicasse come ora o altro che mi avesse scovato dal web e la sua passione per il calcio e la sua passione per i diritti li affrontava con un metodo che in genere in Italia era considerato scivoloso la non fiction novel è anche lontano dall'onanismo dello stile l'ossessione per la bella pagina questo me lo rendeva letterariamente fratello però a dirla tutta la caratteristica davvero unica e rinunciabile era l'intelligenza emotiva la grazia con cui affrontava la vita quotidiana ora a dirla tutta questo è un mondo quello dei giornalisti degli scrittori dove sostanzialmente parlo per mia esperienza magari i miei colleghi la pensano esattamente al contrario ci si odia tutti con tutti ci si sparla tutti con tutti ci si invidia tutti con tutti chiaramente ho sentito da un mio collega salvo appunto quelli che sono miei amici parlare bene di qualcuno o godere del fatto che qualcuno stesse vendendo arrivando a come dire molte persone non era così Alessandro si tende a non credere mai a una celebrazione diciamo quando una persona finisce lui stesso qualche volta ci siamo trovati dopo la mia vicenda in cui lui comunque è stato vicino a prendere in giro nel senso che se qualcuno sta parlando male di te è una prova che sei vivo perché se parlasse bene di te allora significa che è finita la tua biografia quindi ci si era trovati anche a scherzare su questo bene in realtà chiunque abbia conosciuto Alessandro sa di questo valore specifico prima Corfetto Fofi segnalava la sua capacità di mediare questo succedeva anche nei giudizi sulle persone più volte gli ho mandato delle mail ferocissime perché aveva presentato degli autori che detestavo per esempio e con molta mediazione ha detto sì però su quella cosa aveva ragione oppure c'era uno sguardo giusto su questo o semplicemente non si dice di no perché dire di no a una persona che chiede una mano in una presentazione in una condivisione e poi c'era un'altra lezione che era tipica di Alessandro meridionalista stare nelle cose una cosa che io non ho che non aveva Mario Desiati insomma il gruppo di persone che io poi purtroppo sempre meno ma che avevo iniziato a frequentare quotidianamente cioè prendere treni andare sui luoghi non avere alcuna alcun problema su ci sono cinque persone ci sono diciotto persone ci sono cinquecento persone non importa si va se è importante andare e qui non si tratta di una missione mistica ma di una sorta di piacere nel condividere in quello che è stato anche il principio del suo maestro cioè da pochi a pochi cioè guardare negli occhi le persone cosa che io non ho saputo più fare per molte ragioni guardare negli occhi delle persone quindi poter discutere è un modo per incontrarsi al di là se si condivide o no quello che si sta dicendo leo grande era questo dire di una persona il post che ha pubblicato suo padre il padre di Alessandro mi ha profondamente segnato ma vorrei dire suonato come se mi avesse suonato perché un padre orgoglioso di dire mio figlio era una brava persona una persona che sentiva una persona che aveva vissuto diversamente non è l'orgoglio di un padre che parla ovviamente di un dolore immenso e neanche di un padre che sta difendendo legittimamente per esempio l'opera del figlio l'opera del figlio è stata una biografia coraggiosa umana piena di grazie è la parola che sento di dire anche nel io non ho mai litigato con Alessandro non abbiamo mai avuto diciamo un motivo di conflitto ma anche nei momenti in cui io blateravo contro tutto e contro tutti il suo modo di stare al mondo è quello che in questo momento lo si sta facendo ricordare in questo modo che si sente questa grande mancanza perché era una persona che viveva esattamente il progetto di vita di cui scriveva senza l'ossessione di voler diventare artista se bisognava essere artisti come dire se era necessario essere artisti per conseguire un obiettivo bene quella strada altrimenti no e quindi mi resta di Alessandro questa lezione questo senso anche di dico una parola impronunciabile chiudo bontà che è una parola che ci fa paura se non a volte schifo pronunciare è subito sporcato come buonista cosa del genere Alessandro invece lo era dentro una dinamica di condivisione che non dimenticherò quindi non dimenticherò la vita di Alessandro a fianco all'opera perché è stato esattamente quello che mi ha permesso di guardare oltre i momenti di malinconia e chi non l'ha conosciuto nei suoi scritti può trovare questo una sorta di manuale a non a non arrendersi all'accidia alla malinconia e alla depressione tutto qua grazie Roberto e Giuseppe Catozzella aveva lavorato con Alessandro diciamo dall'altra parte della barricata perché pur essendo autore ha lavorato sulla frontiera da editor e fu uno scambio ricco bellissimo abbiamo visto proprio nascere quel libro pezzo pezzo e come era nato io ricordo che era nato diciamo da avevamo deciso di provare a fare un grande racconto della frontiera e ricordo lo stupore di vedere nascere quel libro pezzo pezzo e di come lui fosse capace di volta in volta avesse capito quello che io in modo più ingenuo avevo immaginato come meccanica cioè fare un reportage sulla linea e lui in modo secondo me geniale aveva capito subito che aveva capito subito che per raccontare la frontiera dovevi raccontare di qua e di là in un ping pong continuo e la lavorazione di quel libro fu tutta così insomma aggiungeva pezzi aggiungeva storie costantemente andando molto al di qua e molto al di là ci racconti un po' ci ricordi quell'esperienza di lavoro con lui eh sì infatti mi sono mi sono appuntato delle cose proprio perché insomma per non rischiare che l'emozione con cui parlo di Alessandro insomma prevalga perché appunto io conoscevo ovviamente Alessandro prima poi c'è stato questo rapporto strettissimo tra me e lui che è il rapporto strettissimo che c'è tra un editor io appunto al tempo facevo l'editor proprio per Feltrinelli e un autore per cui dato il modo in cui Alessandro concepiva le sue opere era una cosa è stato sono stati dei mesi eh totalizzanti ehm Alessandro aveva questa questa cosa io in realtà a me piace parlare di Alessandro al presente perché le sue opere ci sono e quindi le sue opere ehm vanno lette per esempio un'opera come La Frontiera che è quella di cui che è quella di cui appunto sto per parlare e anzi vi leggerò anche dei pezzettini della Frontiera perché sentire la sua voce è fondamentale per mantenere viva quest'opera La Frontiera è un'opera ehm ancora inarrivabile è il grande libro mondiale sul più grande fenomeno del nostro tempo cioè su su questi spostamenti di decine di milioni di persone questo sta cambiando radicalmente il nostro tempo Alessandro ha scritto il libro non ce n'è uno ehm ad oggi ehm meglio della frontiera nel mondo a me a me piace dire che Alessandro era uno scrittore di storie ecco appunto Alessandro aveva questa cosa qua cioè il fatto che sapeva benissimo che se la storia la scrive ovviamente no prima Goffredo diceva eh il potere no se la storia la scrive chi vince eh Alessandro sapeva benissimo che per capirla bisognava andare esattamente dalla parte opposta cioè bisognava andare nei luoghi silenziosi nei luoghi silenziati nei luoghi mai sotto i riflettori è solo lì che si capiva la storia infatti era un grande scrittore di storie e attraverso le storie singole Alessandro raccontava tante storie storie di persone di ragazzi seguiva le storie e seguiva appunto seguendo le storie raccontava la storia quella con la S maiuscola ma non l'avrebbe mai detta questa cosa qua non l'avrebbe mai detto io voglio raccontare la storia con la S maiuscola se glielo dicevi eh Alessandro rideva eh tutti quelli che che conoscono Alessandro si ricordano la sua risata no? e tu gli dicevi guarda che stai facendo un'opera gigante stai facendo un'opera importante e lui rideva ehm questa era la sua più grande dote al mio modo di vedere il fatto che ha una grandissima preparazione e serietà Alessandro è una delle persone più serie preparate nel nostro settore che abbia mai conosciuto forse una sicuramente una delle più ad una enorme dedizione e passione per la storia sociale dell'uomo e del mondo Alessandro non arrivava mai a prendersi come si dice troppo sul serio cioè questa era la grande cosa di Alessandro cioè Alessandro era capace di raccontare la storia senza mai porsi fuori dalla storia Alessandro era uno scrittore che non si poneva mai fuori dalla storia non si poneva mai sopra non si poneva mai di fianco neanche sotto Alessandro stava dentro ed è questa la forza del suo punto di vista perché soltanto così poteva attingere una sorta di energia inesauribile no? se il rischio se ti piazzi sopra di fianco sotto è possibile che la scrittura finisce per fare diciamo come il contugolino no? cioè finisce per mangiare se stessa per mangiare i suoi figli invece lo sguardo di Alessandro appunto era sempre in mezzo perché il mondo ha sempre rispettato il mondo e proprio perché lo rispettava lo raccontava e alla fine questa era la cosa Alessandro credeva di poterlo medicare il mondo di poterlo medicare attraverso le parole le parole lo sappiamo tutti sono farmaci come sapevano i greci possono uccidere e possono medicare e Alessandro le usava proprio come risarcimento come medicamento non gli interessava altro tutti gli aspetti superficiali legati al commercio delle parole con il mondo quelle veramente non gli interessavano non lo sfioravano proprio ieri mi capitava di leggere un pezzo su Repubblica che scriveva Ezio Mauro che si chiedeva parlando di altro si chiedeva quando la notorietà ha cominciato a sostituire la fama la popolarità a prendere il posto della stima la vemenza a spodestare la competenza la performance a soppiantare la politica il gesto a sovrastare il significato ecco Alessandro era intoccato da tutto questo non lo sfiorava proprio ad Alessandro interessavano le parole e basta il loro essere farmaci il loro essere il risarcimento la letteratura di Alessandro è piena di momenti topici è fatta così sono fatti così i libri di Alessandro sono fatti di momenti in cui tutto attimi in cui tutto è condensato i suoi libri sono pieni di questi attimi scherzando con lui una volta gli commentai la bellezza della scrittura della chiusura della frontiera che ha una chiusura bellissima e Alessandro come al solito si schermì con una risata però mi guardò dritto negli occhi quella volta e mi disse quelli sono i momenti felici della scrittura i momenti felici cioè i momenti risarcitori appunto la sua letteratura è piena di questi momenti è quasi la tentazione di dire che la sua scrittura sia il riempimento di questi attimi felici ascoltate l'inizio di Uomini Caporali perché qua dentro c'è tutto il metodo di Alessandro appunto questi attimi mondo attimi felici così comincia a questo capolavoro che è Uomini Caporali il ragazzo è morto in un modo o nell'altro è morto e questo basta per andare a trovarlo per passare delle ore accanto alla sua tomba in silenzio accarezzare il marmo risistemare i fiori e le zolle incrociare le dita nodose fissare la terra intorno come se la sofferenza tutta la sofferenza dimenticata non raccontata si fosse concentrata in quel punto preciso del camposanto poco fuori dal paese formando una miscela densa e pronta a esplodere incoronata avverte la pressione dei torti senza trovare le parole per esprimerla e allora resta immobile curva nel solito scialle a guardare il marmo il ragazzo è lì e lei solo lei se ne prende cura lei sa che il ragazzo non ha colpe se non quelle dettate dall'ingenuità dei forestieri questo era il metodo di Alessandro il metodo di Alessandro parte da questi coaguli c'è una storia che è la storia appunto con la S maiuscola c'è un'immagine forte del mondo c'è emozione sentimento c'è intelligenza e poi scava Alessandro si mette a scavare ogni cosa ogni argomento su cui Alessandro decide di di cui Alessandro decide di occuparsi a un certo punto comincia a diventare sterminato Alessandro colleziona la sua scrivania comincia a riempirsi di carte di file sterminato questo è il suo metodo analisi ma analisi sterminata ad Alessandro non interessa nei suoi libri arrivare a un punto cioè spiegare una tesi Alessandro sa perfettamente che il mondo è complesso e non è semplice e secondo Alessandro la scrittura deve il compito della scrittura è quella di rimandare risarcire questa complessità e visto che abbiamo poco tempo leggo solo un altro una frase che secondo me racconta bene questa tratta della frontiera sono tra i pochi bianchi dice Alessandro di se stesso che hanno seguito la lotta dei braccianti africani fin dall'inizio ha fatto anche questo insieme a Ivan Segnè aveva seguito la lotta dei braccianti al sud mi ha sorpreso dice Alessandro la loro determinazione con gli uomini provenienti da diversi paesi africani erano pienamente consapevoli di condurre una battaglia che quasi sicuramente sarebbe finita con una sconfitta erano consapevoli che sarebbero andati a sbattere contro il muro di gomma delle complicità e delle connivenze che da sempre regolano lo sfruttamento del lavoro nei campi eppure lo hanno fatto per un sussulto di dignità prima di ogni altra cosa a muoverli è stato un senso innato di giustizia ecco io credo che in questo in questo punto come Alessandro disseminava la sua opera di questi punti Alessandro qui stia parlando anche di lui cioè del suo metodo del suo stare al mondo un senso innato di giustizia dice Alessandro e io credo appunto che leggere e far leggere i libri di Alessandro voglia dire continuare ad abbeverarsi come lui faceva a questa fonte che ci ricorda questo senso innato di giustizia e che fecondava tutti i suoi libri grazie Giuseppe ecco noi chiuderemo con una lettura di alcuni ragazzi del liceo di Saluzzo ma vorrei lasciare l'ultima parola a Nadia Terranova prima di come? e poi c'è il non so se si riesce a vedere abbiamo dieci minuti proviamo a capire se riusciamo a fare tutto però vorrei lasciare a Nadia Terranova l'ultima parola diciamo di questo giro di ricordi sarò brevissima visto i tempi e visto che alle otto come ci hanno ricordato più volte andremo via il grande paradosso di essere qua oggi è avere avuto tra le mani dalle macerie avere pensato questo è il primo libro non autografato e non dedicato ad Alessandro che sarà nella mia libreria e il sintomo della presenza che della sua presenza tra di noi è avere pensato e continuare a pensare di ogni cosa che accade anche di questo incontro bisogna parlarne con Alessandro bisogna raccontarle bisogna dirgli quanta gente c'era all'incontro su di lui bisogna dirgli che il lavoro sui suoi scritti è stato fatto così e così e che la prefazione di Goffredo Fofi diceva questo e quest'altro e questo non dipende soltanto dall'amicizia dal legame dipende dalla presenza costante che chiunque l'abbia conosciuto sa rappresentava nelle vite delle persone Mario Desiati che oggi non è qua ha costruito un dizionario delle parole di Alessandro Leogrande che comincia da là ma non finisce alla Z finisce alla T di Taranto e a questo dizionario che abbiamo fatto qualche incontro insieme lui ha raccontato ha tirato fuori dei vocaboli io ho aggiunto due parole almeno che sono ossessione e cura ossessione ed è venuto fuori molto bene da tutti i racconti sul lavoro di Alessandro è una parola che racconta come lui si approcciava a qualunque tema a qualunque tema trovasse sulla sua strada e lo interessasse in maniera totale in maniera divorante i temi che sono stati toccati qua la frontiera uomini e caporali che giustamente condivido con Giuseppe Catozella se ci fosse stato tempo io avrei letto il finale di Uomini e caporali che considero il suo libro capolavoro sono soltanto alcuni anche Carlo Pisacane è uno dei temi quindi le migrazioni il caporalato Carlo Pisacane ma ce ne sono tantissimi altri solo negli ultimi anni Alessandro aveva curato ed era stato ossessionato appunto ritornano queste due parole cura e ossessione da tantissimi libri degli altri aveva scritto la postfazione di un bellissimo libro senza parole di Armin Greder Mediterraneo aveva curato una raccolta di scritti di Rodolfo Walsh era stato presente nell'antologia curata da Alberto Rollo che cosa ho in testa con un racconto che avrebbe dovuto essere secondo quanto lui stesso diceva uno dei capitoli del libro sull'Argentina ce lo ricordiamo il libro sull'Argentina di cui esistono almeno due racconti sia questo che nell'antologia che forse è l'ultimo racconto pubblicato in vita da Alessandro e un altro che era stato pubblicato su Fuori Bordo un inserto che lui aveva curato per un po' di tempo su pagina 99 in cui chiedeva agli altri scrittori di scrivere per lui stimolando sempre il meglio io dico sempre che i racconti di Fuori Bordo che sono stati scritti su commissione di Alessandro andrebbero collezionati per capire chi era Alessandro per capire come riuscisse a dare veramente il meglio a far dare il meglio da chiunque visto che il tempo stringe non voglio togliere tempo soprattutto ai ragazzi perché so quanto ci avrebbe tenuto a dare la parola ai ragazzi soprattutto del liceo Archita dove aveva studiato e a cui era legatissimo ma concludo con una frase con cui di solito finora ho aperto gli incontri ma che racconta come ci sentiamo dopo la morte di Alessandro ed è una frase che disse Bufalino quando Giuseppe della morte di Sciascia disse è come se avessi subito un'amputazione e mi svegliassi senza una gamba senza un braccio oggi perdo non solo un amico ma anche un padre un fratello un figlio in tanti anni di amicizia questa è la prima scortesia che mi fa morire grazie grazie Nada riusciamo a vedere i ragazzi del liceo di Saluzzo dove sono buonasera a tutti noi siamo i ragazzi dell'istituto Solari Bertoni che è un istituto un po' particolare perché è diviso in due parti una parte costituiamo noi noi ragazzi e un'altra è costituita dai ragazzi dell'istituto penitenziario Morandi di Saluzzo che noi fatichiamo a definirli come vanno definiti perché noi li sentiamo come fratelli come compagni come se facessero scuola con noi perché in un certo senso fanno scuola con noi infatti in alcuni anni abbiamo partecipato al laboratorio adotta uno scrittore e l'anno scorso due anni fa abbiamo avuto il piacere anzi l'onore di avere Alessandro Leogrande con noi e infatti noi siamo qui per due cose in particolare una per portare la voce dei nostri compagni ristretti che non possono essere qui e una per aiutare a commemorare il ricordo di Alessandro Leogrande della sua onestà della sua umiltà e di tutto quello che ci ha dato quindi adesso Satinder e Virginia vi leggeranno delle testimonianze dei nostri compagni e poi leggerò un brano tratto dalla frontiera ciao Alessandro quando ho appreso dal telegiornale della tua scomparsa ho provato un senso di profondo rammarico e tristezza mentre ascoltavo questa pessima notizia mi passavano nella mente le ore trascorse con te nella sezione scolastica del carcere di Saluzzo ora in cui la tua speranza ha dato una svolta a me e a noi tutti sul tema lettura e scrittura ricorderò sempre le cose che mi hai detto raccontandoci delle emozioni che hai provato e il grande coraggio che hai dimostrato nel trattare tematiche delicate erano tutto il tuo vissuto erano le sofferenze che hai provato per scrivere oltre la frontiera non ti nascondo che ero uno dei più scettici su quel tema e te lo dissi ma tu hai saputo spiegarmi con quella calma che ti distingueva quello che avevi sentito in prima persona dalle gioie alle emozioni alle paure vissute in ogni intervista i sentimenti che mi hai trasmesso sia leggendoti che parlando con te mi hanno fatto cambiare le idee che avevo aprendomi la mente ad un'altra frontiera e facendomi capire che quelle notizie che ritenevo piccole notizie di cronaca in realtà di piccolo non avevano proprio nulla ma erano di una gravità enorme che la nostra società evitava ed evita di vedere ti ricorderò sempre con immensa stima e mi auguro che dove sei ora sia un mondo migliore di quello in cui hai vissuto pieno di cecità e indifferenza Gianluca Corso Caccerario Liceo Artistico di Saluzzo Ricordando il suo viso intelligente e buono quando parlava con noi in una delle nostre aule non ci sembra possibile che ci abbia lasciato in modo così improvviso e spiazzante pensiamo alla sua morte come ad una perdita dolorosa per tutta la società la perdita di un uomo che si è speso per i suoi simili con generosità e umiltà affrontando gli eventi ostili con il coraggio di chi comprende l'importanza di raccontare il vero ci rimane il suo lavoro il ricordo di una persona costruttiva e profondamente disponibile e soprattutto ci rimangono i suoi segnamenti di vita che egli proponeva da persona modesta e senza presunzioni Leogrande era uno che non stava a guardare ma si sporcava le mani entrando nelle situazioni non esistenziali e vivendo il dolore degli uomini gli siamo grati per il suo esempio e cercheremo di onorare il suo ricordo con le nostre vite cercando di riempirle di condotte che gli sarebbero piaciute ciao Alessandro Emilio e compagni delle classi ristrette attraversare mezzo mondo per ritrovarsi in Europa non è solo un fatto geografico non riguarda soltanto le dogane le pulizie di frontiera i passeurs gli scafisti i trafficanti i centri di detenzione le navi militare i soccorsi gli aiuti i tir le corse le rincorse gli stop i respingimenti non riguarda solo questo benché tutto questo possa coincidere per molti con l'evento saliente della propria esistenza ha a che fare innanzitutto con se stessi saltare i muri è innanzitutto un'esperienza individuale alla base di ogni viaggio c'è un fondo scuro una zona d'ombra che raramente viene rivelata neanche a se stessi un groviglio di pulsioni e ferite segrete che spesso rimangono tali ma capita altre volte che ci siano dei viaggiatori che ne hanno passate così tante da esserne saturi sono talmente appesantiti dalla violenza e dai traumi che hanno dovuto subire talmente nauseati dall'odore della morte che hanno avvicinato da non voler fare altro che parlarne allora in quei momenti hanno bisogno di incontrare un altro viaggiatore perché solo un altro viaggiatore può capire il peso delle parole che pronunceranno solo un altro viaggiatore può indicargli la strada della leggerezza tutti gli altri restano sempre a qualche metro di distanza sulla terraferma incapaci di afferrare il senso di ciò che viene detto ho impiegato molto tempo per capirlo bisogna farsi viaggiatori per decifrare i motivi che hanno spinto tanti a partire e tanti altri ad andare incontro alla morte sedersi per terra intorno ad un fuoco e ascoltare le storie di chi ha voglia di raccontarle come hanno fatto altri viaggiatori fin dalla notte dei tempi ascoltare dalla voce di chi ha oltrepassato i confini come essi sono stati fatti come sono state fatte le città e i fiumi le muraglie e i loro guardiani le carceri e i loro custodi gli eserciti e i loro generali i predoni e i loro corvi come sono fatti i compagni di viaggio e perché a un certo punto li si chiama compagni come sono fatte le barche come sono fatte le onde del mare come è fatto il buio della notte come sono fatte le luci che si accendono nell'oscurità quelle voci sono plasmate con la stessa pasta dei sogni si riempiono di rabbia e utopia di desiderio di paura di mesirecordi e furore la terra e il cielo di prima non ci sono più laddove un nuovo cielo e una nuova terra si stagliano davanti ai loro discorsi sovente si infervorano e allora gli occhi si sgranano e le bocche si torcono per afferrare le sillabe che compongono la parola da cui tutte le altre discendono e ogni volta che viene pronunciata il mondo nuovo si affretta a venire mentre quello vecchio scompare lentamente il desiderio cresce la fuga diviene innocente e i morti sembrano meno morti tanto che la sorte può essere sfidata ancora una volta quella parola indica una linea lunga chilometri e spessa anni un solco che attraversa la materia e il tempo le notte e i giorni le generazioni e le stesse voci che ne parlano si inseguono si accavallano si contraddicono si comprimono si dilatano è la frontiera per molti è sinonimo di impazienza per altri di terrore per altri ancora coincide con gli argini di un fortino che si vuole difendere tutti la mettono in cima alle altre parole come se queste esistessero unicamente per sorreggere le frasi che delineano le sue fattezze la frontiera corre sempre nel mezzo di qua c'è il mondo di prima di là c'è quello che deve ancora venire e che forse non arriverà mai grazie e adesso proviamo abbiamo credo ancora qualche minuto per provare a vedere finalmente il video del liceo Archita e intanto grazie grazie a tutti grazie 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 ci sono non non si riesce mi dispiace moltissimo ma non si riesce se c'è qualcuno del liceo Archita che ha voglia di dire in un minuto insomma di ricordare come? qualcuno dei ragazzi se no mi dispiace moltissimo ma non so che fare lo metteremo lo faremo circolare sui social su facebook insomma e le vedremo lì con con l'audio mi dispiace ma non mi dispiace moltissimo non so che fare rinunciamo rinunciamo grazie 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 grazie